L'Associazione Culturale Il Testimone organizza per lunedì 20 novembre alle 20.45 all'auditorium delle scuole elementari di Clusone un incontro con Michele Brunelli, professore di politica, comunicazione e società del Medio Oriente all'Università degli Studi di Bergamo. Il tema è, quanto mai di attualità, ebrei e palestinesi, un conflitto senza fine. Sì, la questione israelo-palestinese porta con sé 75 anni di tensioni, conflitti e tentativi di mediazione mai andati veramente a buon fine. Negli ultimi anni però avevamo assistito a uno stallo delle tensioni, complice anche i negoziati tra Israele e i paesi del mondo arabo. Tuttavia, dallo scorso 7 ottobre la situazione è cambiata completamente e da quel momento assistiamo ad una spirale di violenza che sembra essere interminabile. Esiste una prospettiva di pace per la zona, stabile e duratura? Quali sono i grandi attori internazionali che si muovono dietro i due paesi coinvolti nel conflitto? Esiste il rischio che lo scontro si allarghi a tutta l'area del Medio Oriente arabo? Il professor Michele Brunelli, esperto di politiche del Medio Oriente e direttore del Master in Prevenzione e Contrasto al Terrorismo, ci aiuterà a rispondere a queste e tante altre domande. Vi aspettiamo quindi lunedì 20 novembre alle ore 20.45 all'auditorium delle scuole elementari di Clusone per l'incontro col professore. A nome dell'Associazione Il Testimone ringrazio tutti gli enti che hanno patrocinato l'evento, in particolare il Comune di Clusone che ci ospita.